Sono Rocco Braz nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio Che cazzo succede qua? Fatemi salire Bello omi, oggi ho fatto la maturità, ma ti rendi conto? Bella lì, no scusami, grande Palle, devo per forza accedere? Grazie, hai già striccia Aspettate che accedo Voglio te Che devo trascinare pure il puzzle Vai, operazione di uscita, sì, non sono un robot Lo so, lo so, sto mettendo Oh, eccolo, ho un messaggio da TikTok Sto mettendo i miei dati personali, un secondo E mi sono arrivati? TikTok? 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 Ecco io Eccoci qua Arriva E fammi sentire sti audio TikTok Vai su, vai su, vai su Su, non posso, non posso Anzi, no, mi scamma Questo bot peppino malavitoso ha rapito Luisa Non posso, non mi interessa Dezooma, dezooma No, guarda, dezooma Ok Dovrebbe essere in alto a sinistra Sì C'è la barra in alto Fai il tasto destro sulla barra in alto Ispeziona Premi Canch Vai su Premi Canch Canch Stai crescendo bene piccolo Voilà La barra è scomparsa Forse devi ancora cancellare cose Prova a cliccarci sopra All'audio No, devi chiudere l'ispezione Hackers Hackers Mi dissocio Ok Grazie Valdax Ma sono sempre quelli la vecchia Ho già visto Non ho messo nuovi Oh Ma sì, ma li ho già visti Ma come Oh Oh Eh, non ne ho ripostati di nuovi? No Non lo so Come si fa a vedere i più nuovi? Sotto No, non ne ho ripostato di nuovi TikTok Una merda Una merda Una fottuta merda Rip format Rip format Veloce mouse Che si è bloccato così Per te Vediamo i TikTok per me Oh Sta barra del cazzo Come si toglie sta barra del cazzo? Di nuovo Ispeziona Ma non posso fare l'hacker Ma sì Ma sì Non è bannabile Non è bannabile Tasto destro Ispeziona E vanno i siti di merda Che ti devo dire? Lo aggiustiamo noi Oh Oh Hank Ho eliminato Ho eliminato Hai eliminato TikTok? Andrea Adesso ti arrivano le denunzie Vabbè Ma se è così facile Scusami Come se Non hanno proprio un sistema di sicurezza Ragazzi Scusatemi Dai Non mi va più l'applicazione Neanche adesso Ho fatto Una gaff Ho fatto chiudere TikTok Vediamo se Refresce che torna Ok 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 Oh No Voglio vedere Schermo intero a scorrimento Come funziona Oh Ma che cose porno mettono Scusatemi Molto interessante Quel cuolo Peppino Malavitosso Se mi stai ascoltando Uniamo gli hacker della cia Grazie a bannare Dai Divertente Che sia Oh Oddio questo zitto Se tu dici farà Tò addio Oh No OI 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 Non c'è un po' di C'è un po' di C'è un po' di C'è un po' di OI 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 Posso vedere i commenti Andrea Sono stato Sono stato scarmato pure da TikTok Ma come si Allora ragazzi l'altra volta non c'era Questa caccio di barra di merda L'hanno aggiornato il sito E fa schifo Dovresti provare a cambiare Dispositivo da Chrome No sta benissimo la musica con sto TikTok Se non si siede si stacca quel codino Passo un lito ogni volta che riconosci la canzone E sei bella Oh mi togli questo cringe se tu dici Operto addio stai lontano dalle suore Emk cantante lirico o mi vieni scammato Anche da TikTok Oh 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 Te l'ho detto mille volte non c'è creduto Sono stato Vestito di nero Quanto conosci sfera e bassa? Metti le mani così e abbassa un dito ogni volta che riconosci La canzone E sei bella Si conosce Ho detto che si conosce E se stesso E se fucking stesso Siaomi Senti odio Oh mi sto più in questo posto 200 euro alla roulette No non gioco 200 euro alla roulette Ah tu stai giocando Non giocare Questa è la cosa che ti dico Ciao mi puoi fare un saluto Alla quinta M&M Grazie a Dio cane o No non vi saluto Studiate Non seguitemi Studiate E non state qua a perdere tempo Dai Scusate I problemi tecnici mi fanno svalvolare Ma te l'ho detto come risolverlo Si non posso ogni volta che rari il sistema Hank Non funziona così la vita O loro mi danno un sito Dove andare O se no io sul loro sito Non ci vado Non ci vado A pagamento ci vado Volentieri Signore di TikTok Anche per 500 euro Ma altrimenti non ci vado Ma altrimenti non ci vado Uno non può essere arrabbiato Che per forza L'emoji dello sugar E che palle O mi chiama Luis Luis porco di Dio O Luis Dio cazzo O mi Se mi stai ascoltando Dai dimmi 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 Finisci le frasi Finisci ste frasi Dai ora Ora Hank Mi sa che ti saluto Che tra poco vado in live Ok Eh Ma non ti ho scritto questo Ma che cazzo O mi mi hai scammato E o e o peppino Scego te Peppino usa schermo E letale contro omi O mi usa Guardiamo un altro video Non mi scambi E mi gli do il vip Grazie Valdax Spiega questi soldi con me Grazie No è tutto contro Oggi è tutto contro Tutti i meme contro Tutto lo scam contro Tutto il sito Non vai Cosa devo fare Grazie Don Pidro Comunque così anche da me Schim 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 Ma non è difficile Basta prendere Basta premere F11 Cliccare nei codici Che solo tu conosci E cancellarne due o tre Perché sei solo tu Che sai leggere In python O come cazzo si chiama Ma no Basta cliccare F11 No com'è F9 F10 Tasto destro Ispeziona Ok dai Vado Primo E cancello tiktok E cancello tiktok Ma sai Ma hai capito Se può evitare di fare Come un panda Tiktok dal mondo È eliminato tiktok dal mondo È eliminato tiktok dal mondo Ecco Mi fai anche un danno economico Refresh un momento Contro l'R Contro l'R Lui F5 Dov'è? Dio merdoso O Comunque Omi Prima di stavo dicendo SKSK Guardiamo Damian Dio caro Ma con sti audio di merda Abbassate Avete un cazzo di mixer Abbassate sti audio Non potete farmi il re Con lui ci ho fatto Ah ma ci ho fatto un video con lui Mi misere fresh Nozzolino Nozzolino Come cazzo si chiama Grazie Valdax Grazie Valdax Allora Ispeziona Cancello queste righe Aspetta Aspetta Non sto vedendo Non sto vedendo io Non so perché Faccia Si cancella questa Lo guardo in live Ok No Non devi No Devi fare tasto destro Sull'header Cioè sulla cosa Che vuoi cancellare Ok ci siamo Ho eliminato altre cose Nel frattempo Perfetto Pulizia Tasto destro Devi farlo No Lanna Rose No la conosco Lanna Rose Sono contento Che con 100 beat Giorgio presta la sua bella voce Comunque hai detto Qua torna Torna Si in serio Che con Pedro Non si scherza Strippa ancora di più Ispeziona Vai Clicca su di uno Preccia in su Scusi lei E' sicuro che è omologata questa macchina? 100% Sicuro? 100% Ok può andare Arrivederci Devi su Carlo Si chiama Devi su Carlo Devi su Carlo Devi su Carlo Ma che nome è? Devi su Carlo Davis Ciao Davis Ma che nome ha? Ecco Metti sopra il panino Levi la parte in più Che sta a mezzo al cazzo di hamburger E metti la parte che te serve Sua baguette Strato un altro De maionese E poi che non ce la metti Un'altra patonza sopra Dagli e magna Tranquilli che Mangio anche cose leggere Dagli e dei paninozzo Pure stasera Strato dei maionese a sentimento Se non era bene o non le faceva le più Usi Non è vero Non è vero Non è vero Che ti sono Di per favore Non è vero Che ti sono Che è vero Non è vero Che i vero Che è vero Decision Un po' stanco, si è fatto anche male Ah, il tuo tipo è celoso Eh vabbè, lo lascia a casa e viene a giocare con noi Ehi, ciao Scusa se ti stavo rincorrendo Ho visto che stai andando via Verresti con me i miei amici a giocare a calcio? Vedi, quello là è un po' stanco, si è fatto anche male Ah, il tuo tipo è celoso Eh vabbè, lo lascia a casa e viene a giocare con noi Ehi, ciao Scusa se ti stavo... Cosa è, Hank? Prima di postare su internet devi cambiare la voce È illegale postare prima su internet di cambiare la voce Ma che stai a dire, Hank? Credo di non aver capito Piccola gaff, piccola gaff Eh, ho ancora paura perché sono caduta dalla sedia Ma che, che, ma che ti sei fumato Ma che denti bianchi ha, Macchi? Scusa se ti stai Guardi cosa è volato il mio, mio, mio bagno Guardi, guardi Guardi così volato Pistrello Guardi cosa... La terza è In inglese è come Parole in italiano che non abbiamo in inglese La prima è Magari In inglese è come Wanting something really bad La seconda è Ti voglio bene È come I like you as a friend La terza è Sprezzatura In inglese è come Ma cosa vuol dire sprezzatura? Ma no, credo sia una parola inglese che non abbiamo in italiano No, è il contrario Cos'è la sprezzatura? Che cazzo è la sprezzatura? Se cerco sprezzatura la prima pagina che mi esce è in inglese Ah, sprezzante del pericolo Sprezzatura No, sprezzatura è un termine in voga durante il sedicesimo secolo italiano Dai, che cazzo la usa più? Dai Come cornucopia Chi è che la usa più? Cornucopia Grande cesto ripieno di frutta o cibo E uno che sia compone sia esegue Cringe, 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 cringe E poi non se ne andrà Vorrei lavarmi ma non so più come si fa Gesù non ne usciamo mai più Mi sto spaccando di cibo e di serie tv Ormai da tre settimane non mi lavo più Che giorno è? Non lo so Voglio il tiramisù Na na guardali guardala E siamo in quarantena Na na ni na 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 Au Rimpiango Amedeo Preziosi Sono tutte copie di Amedeo Preziosi sembra A meno guarda A meno io ero l'originale No, a meno lui ero l'originale Un po' fattozziano Grazie Baldur Però a meno lui era l'originale E secondo me se non si metteva a fare cose per i bambini A meno di Pabini A me Deo Preziosi era più bravo Sono tutte copie di Amedeo Preziosi Con queste mi sono sbucciata le ginocchia Queste per andare a ballare Queste Ma è che Ma è che I tuoi coglioni Ma sempre i fessi Che sta bello Il ragazzo Quello dei maiali E io guardo Sto guardando dalla live Un po' cringioido Grazie cane di Dio Grazie a tutti Mi perdoni signora Non ho capito Vuole un ombretto blu Hai Max sotto casa No, no, ti voglio blè No signora Finito Io sono l'uomo del cespuglio Del cespuglio Del cespuglio Io sono l'uomo del cespuglio Del cespuglio La migliore comunque è quella di Rocco Grazie Io sono l'uomo del cespuglio Io sono l'uomo del cespuglio